Su fratelli, su compagnie, su venite in fitta schiera, su una libera bandiera, splende il sol dell'avenì. Nelle pene e nell'insulto ci svingemmo il muto patto, la gran casa del riscatto, nion di noi vorrà... Il carro sobalzò sulle rotaie e per il brusco movimento, siccome non si teneva con la mano, Metello fu spinto avanti. Istintivamente mise i piedi in terra e si trovò ritto in mezzo al binario. Ma sei ciucco? esclamò la nonna. Il carro era già sulla strada, distante una decina di metri. Il bracciante tratteneva i buoi. Su, monta, disse, e gli fece cenno con la testa. Capa di rapa! C'era un gran silenzio. Si erano zittiti anche i grilli. Vicino volava un moscondoro. Uno dei buoi mugliò, l'altro gli fece eco. Metello era rimasto fermo. Guardava il carro e la vecchia e l'uomo che lo aspettavano. Oh, fece il bracciante, sei assordito! Metello, disse la nonna. Lui li guardava ed improvviso voltò le spalle e fuggì lungo il binario e poi sul tratto di terra battuta parallelo le rotaie, dalla parte dove era andato il treno. Non udiva le gride e i richiami. Correva! Gli rombava la testa. Ma correva! La strada ferrata tagliava in due i campi deserti a quell'ora. Forse l'uomo lo rincorse per un po', forse la nonna dette voce a quelli della stazione. Seppe molto tempo dopo che era stata tale la loro sorpresa che quando si decisero ad inseguirlo, egli era già scomparso dietro la curva e dentro la galleria. Alla stazione si rifiutarono di avvertire Pontassieve. Dove volete che vada? Bocca che mangia, non si perde. Dentro la galleria egli riprese fiato e di nuovo, intimorito dal buio ma con spavento, staccò la corsa. Quando uscì dall'altro capo del tunnel, pur breve, era sera fonda. Fu come se ne accorgesse ad un tratto. Si era lasciato dietro le spalle le ultime case di Rignano e sapeva già dove andava e cosa voleva. Andava a Firenze, dove era nato e che non conosceva. E avrebbe vissuto da solo, col proprio lavoro, lontano dal guardia e dalla gente della fattoria. Lui che era stato un cittadino e non aveva nessuno al mondo. Gli sembrava, e ora i grilli cantavano più forte, si erano d'estate le rane, abbaiavano i cani, saliva in cielo la luna piena a illuminargli il cammino e a quella luce splendevano tutti i bianchi i sassi dell'arno in secca tra i campi e la ferrovia, che Isolina, Olindo e i fratelli più piccoli fossero partiti tanto tempo prima, tanto che nemmeno si ricordava bene i loro visi. Per un momento gli parve d'avere dimenticato i nomi dei più piccini. Correndo se li ripeteva, Vittorio, Carlo e l'ultimo, quello ancora in sottanino, Ascanio, l'avevano chiamato come il sottofattore. Un treno gli veniva incontro, si udiva il fischio, quindi apparve il muso della locomotiva che vomitava faville e lo sbuffo di fumo. Egli si inoltrò per un viotto e raggiunse la strada maestra. Il treno passava alle sue spalle e sulla strada avanzava un barroccio carico di fieno. Il frastuono del treno, la presenza del barroccio come appollaiato sulle stanghe, gli ride esterno il senso del pericolo. Riprese a correre fin dove cominciavano altre case. Forse era a Pontassieve. C'era scritto, sulla prima di quelle case, come a Contea, come a Rincine. Allora capì che non sa per leggere. Era una grande disgrazia, come portarsi addosso una malattia. Lui vedeva i segni neri sulla parete calcinata, ma gli occhi non gli servivano. Era come fosse cieco. Al di là delle case ritrovò il suo fiume. L'attraversava un ponte che immetteva un grosso paese. Era Pontassieve? A capo del ponte c'era una fontana. Si dissetò. Era stanco e si sede sulla spalletta. Passò un secondo carro di fieno e il barrocciaio, sdraiato questo sulla cima del carico, arrestò il cavallo davanti a lui, per accendersi il mezzo toscano. Da quell'altezza gli disse. Ti ha lasciato solo la dama, giovanotto. Metello era sudato, ansante, appena dissetatosi alla fontana. Tuttavia sorrise, quasi gridò. Ma che? Son di qui, son di Pontassieve. Il barrocciaio rispose. Ho capito, sei furbo. Ora Metello sapeva di trovarsi davvero a Pontassieve. Si allontanò girando a largo del paese, ancora sulla strada maestra. La luna sembrava fare il suo stesso cammino. Col primo sole entrava in Firenze, passando sotto porta alla croce. Si spinse avanti ancora pochi passi e si trovò in pieno mercato. Così vestito com'era, piantato con le mani nelle tasche, era nel suo ambiente. Nessuno avrebbe potuto immaginare la sua avventura e ora la sua curiosità, la sua stanchezza e la sua fame. Era un ragazzo alto e quadrato per la sua età, col ciuffo nero sulla fronte, le mani grandi, un berretto in testa, la camicia abbottonata e pulsi al collo, il gilet sopra senza giacca, le scarpe di vacchetta impolverate e i calzoni lunghi fin sugli stinchi, tale da sembrare che avesse non 15 anni appena compiuti, ma 18-19 e capace di affrontare la fatica con disinvoltura. Attorno a lui dei facchini di piazza scaricavano dai carri le casse della frutta, le palle dei cavoli fiori, le arance e i mandarini che gli toccava per la prima volta. Altri facchini accorrevano per trasportare la merce nei depositi. Più avanti i venditori al dettaglio sistemavano i loro banchi. Vera grande animazione e vocio, il sole già scottava. Mettello si sentiva stanco e aveva fame, era come intontito e di curiosità e di stanchezza e di sonno e di fame. Una voce lo riscosse. Ehi tu, sei qui coi carri o per dare una mano? Sotto, mi manca gente stamattina, quattrocentesimi l'ora, ti sta bene? Lui non rispose, non si girò nemmeno a guardare chi gli aveva parlato e se davvero quelle parole erano state rivolte a lui. Si avviò uno dei carri, presentò le spalle e si caricò di una cassa. Non gli fecero festa ai suoi colleghi. Ma dove sei uscito? Perché hai accettato un centesimo di meno? Gli chiesero. E siccome lui non rispondeva, anche perché aveva il fiato grosso per via del caldo e della fatica, gli si velava lo sguardo. Uno di costoro, un giovane dai grossi baffi e una verruca sulla guancia, che il padrone aveva chiamato Linari, trovò il modo di urtarlo e di farlo cadere lungo disteso. Il padrone gli voltava le spalle e Metello poteva rialzare la cassa e raccogliere i limoni che si erano sparpagliati sul marciapiede. Ce ne ho di bisogno, borbottò, mentre ammucchiava le gabbie poco dopo, e costui gli era nuovamente vicino. Un altro, un uomo dei capelli bianchi e il viso pieno di rughe, gli ossi gli bucavano la camiciola, disse, se accetti i quattrocentesimi tu a me, che secondo loro son perloche, e non reggo più di mezzo quintale, cosa dovrebbero dare? Si meriterebbe, ma un cerfone, disse Linari, passando. Aveva solino e cravatta, portava in spalla una cassa di mezzo quintale come fosse vuota. Ma lasciatelo campare, intervenne il terzo. Era un uomo di mezza età, coi baffi anche lui, e tutto calvo, col cranio bruciato dal sole e gli occhi che gli ridevano. Sembrava una persona di riguardo, piuttosto che uno scaricatore, ma a grado sudasse come gli altri e fosse trasandato. Non lo vedete com'è Giovannino? Per questo devi imparare, disse quello dalla verruca. Hanno ancora la bocca di latte e ci vengono a togliere il pane. Si vede che non gli manca l'appetito, disse il calvo. Mettello li ascoltava, cercando di non guardarli in viso. Ce ne ho di bisogno, ripetè. Si è capito, disse il vecchio. Non lo farai, spero, per una poltrona al pagliano. Suonò a mezzogiorno e gli fecero la paga. La giornata per loro era finita. Mettello si trovò in mano tre soldi, un diecione e metà centesimi. Di fronte al mercato c'era un'osteria alla cui presenza, scoperta fin dal suo arrivo, lo aveva aiutato a mantenersi in piedi quelle cinque ore e a sostenere la fatica. Un piatto di pasta dipinto sull'insegna da un lato, in mezzo una scritta e dall'altro un fiasco di vino. I suoi compagni di lavoro entrarono che egli mangiava la pasta asciutta aiutandosi colpare, si sedettero al suo tavolo, chiesero per prima cosa il vino, lo versarono anche per lui che non l'aveva ordinato. Sembravano meno astiosi ora. Il giovane dalla verruga gli riempì il bicchiere. «Quanti anni hai?» gli chiese il calvo. Mettello stava col viso sul piatto e masticava. «Di la verità, sei proprio di Firenze? Non sappiamo nemmeno come ti chiami. Avanti!» insiste il calvo. «Io mi chiamo Betto!» «Ossia il maestro, anzi il Troncia!» disse Linari. «Per caso stamani non eri appena uscito di Carbonaia quando sei arrivato?» Mettello non conosceva quella parola Carbonaia. Usata era evidente per dire tutt'altra cosa. Ne sapeva che dietro al mercato c'era la prigione. Ma capì che se non entrava nelle grazie di Costoro i carabinieri l'avrebbero riportato alla fattoria e nello stesso tempo fu come se intuisse che solo facendosi amici i cotesti uomini egli poteva conquistare per sempre la libertà incontro alla quale aveva marciato una notte intera. Lo sguardo era sempre più velato. Via via che mangiava gli sembrava di perdere le forze invece di riacquistarle. Beve d'unfiato il suo bicchiere di vino e disse «Era pur sempre, anche se cascante dal sonno, un ragazzo cresciuto contadino. Ce ne ho di bisogno. Sono solo al mondo. Mio padre è morto in arno». «Quando?» gli chiese qualcuno. Forse il maestro, lui nemmeno più li distingueva l'uno dall'altro. «Una quindicina d'anni fa?» Mettello annui e spostato il piatto appoggiò la fronte sul braccio. Sentì ancora bestemmiare e vibrare un pugno sul tavolino che tremò. «Ma allora è vero!» Il maestro disse «È il suo ritratto!» «Il figlio di Caco!» «32, l'Orvano!» «L'Orvano!» «26, il renaiolo!» «Questo era il vecchio che parlava!» «Pastelli!» Mettello già dormiva. Il sonno greve di un ragazzo di 15 anni che aveva camminato la notte intera, faticato tutt'una mattina, a digiuno, vinto ora dalle emozioni. Per quanto lo scuotessero non riuscirono a svegliarlo. Betto dovrà prenderselo sulle spalle e trasportarlo così attraverso Santa Croce, Ponte Alle Grazie, Giardino Serristori, fino nella sua camera di San Nicolò, nonostante la camera, non sottostante la camera, dove Mettello era nato. Betto lo ospitò quella notte finché potè. Era stato amico di suo padre, viveva solo e gli piaceva il vino. La sera ciò che gli restava lo beveva. Allora gli occhi celesti spiritati usciva in strada e provocava chiunque si prestasse al suo scherno. Se era la ronda che incontrava, lui di già ammonito le si avventava contro. Sortiva di prigione ogni volta, deciso a ricominciare, ma sul serio. «C'è scritto», diceva, in un opusco di caffiero. Sapeva parlare, aveva studiato. Un suo fratello era funzionario al Genio Civile. Suo padre, avvocato, era stato con Giuseppe Montanelli a Curtatone. «Quello che faccio quando bevo», gli diceva, «è contro tutte le mie idee», ma non resisteva a lungo. Si ubriacava e usciva a gridare per le strade. «Ladri! Umberto Boia! Metteremo le bombe a Pitti! A San Pietro! Al Quirinale! La faremo noi, la comune!» «Viva Caffiero!» Lo raccoglievano, se non incontrava i poliziotti tra i ruoli di Giardino Serristori, vicino casa, preda delle convulsioni. Sempre lì andava, come una bestia che istintivamente cercasse la tana dove nascondersi e dove riparare. «Non credere che tutti gli anarchici si comportino come mi comporto io», diceva Metello quando era in sé. «I veri anarchici non sono né come me, né come tuo padre, buon uomo, ma che sì, che mi assomiglia in queste cose, non lo imitare. L'anarchia è una grande idea, è la libertà delle libertà, non soltanto la libertà di bere, non sono gli uomini come me che la possono insudiciare, c'è Caffiero, c'è Kropotkin, c'è stato Bakunin, c'è stato Godwin, c'è stato Stirner, questi due un po' meno, c'è stato Proudhon, ti enti a mente questi nomi, li devi studiare, c'è stato qui in San Nicolò, Remigio Benvenuti, faceva il calzolaio e stava accanto alla porta, io e tuo padre non gli si legava le scarpe. E la mia madre, chiedeva Metello, tua madre, diceva Betto, gli si addolcivano gli occhi, un istante, questo al ragazzo non sfuggiva, se fosse stata una donna di chiesa, l'avrebbero messa sull'altare, invece era atea, le piaceva la libertà, le piaceva la vita, qualunque fosse, era una bella donna, alta, come stai venendo su te, che per il resto sei il ritratto di tuo padre, e taceva. Una delle prime sere gli aveva detto, devi sapere che lei era anche la più forte, non tuo padre, quando tu nascesti e lei morì, io ero in prigione, ci rimasi un anno, un anno quella volta, e un altro ne fece a Lipari, tornai che anche tuo padre non c'era più da un pezzo, te non sapevo che esistevi, della famiglia da cui proveniva, dei suoi genitori, di suo fratello ancora vivo, non parlava mai, si diceva che l'avessero diseredato, e se Mettello gli chiedeva, perché lavori in piazza, dal momento che hai un'istruzione, Betto rispondeva, lavori in piazza, perché è il più bel lavoro, scarico a giornata, quando mi piace, non ho padroni, e anche perché in piazza, c'è la sola gente, con cui vado d'accordo, e con cui merita a parlare, egli fu per Mettello, il padre che Mettello, non aveva conosciuto, ma che poteva immaginarsi uguale, certo, meno istruito di Betto, non meno generoso, non meno amico, gli proibì di tornare in mercato, e di scaricare, è il più bel lavoro del mondo, ma non fa per te, devi darti un mestiere, andò a rincine, per parlare con quella gente, della fattoria, caso mai fosse ricorsa ai carabinieri, e per prendergli, almeno l'altra camicia, e la giacchetta, che mamma Isolina gli aveva lasciato, tornò e disse, si erano già messi l'anima in pace, e senza essere stati dai carabinieri, la vecchia, la nonna, ti manda a dire, Dio t'aiuti, dice, che non avevi altra roba, che quella che indossavi, quando sei scappato, ma se non in mercato, lo stesso bisognava lavorare, scegliti un mestiere, gli disse Betto, ma sceglitelo da te, se ce n'è uno che ti piace, il cappio al collo, mettitelo con le tue mani, cosa sai fare? Niente, egli sapeva fare, se non zappare la terra, badare alle pecore, e portare dei pesi, che mestiere ti garberebbe, sentiamo, Metello lo guardò, e gli rispose, era soltanto un ricordo, della sua fanciullezza contadina, che la presenza delle impalcate, nel centro della città, e i suoi lungarni, gli avevano ravvivato, il muratore, non gli fu difficile occuparsi, bastava si contentasse, della paga più bassa, e dimostrasse di reggere la fatica, entrò come manovale, sotto l'impresa Badolati, che aveva in appalto, la costruzione di un'ala, dei nuovi portici, e dell'arco trionfale, in piazza Vittorio, lavorava dieci ore al giorno, e guadagnava sette centesimi l'ora, più di uno scaricatore, e la fatica non era maggiore, e la sorveglianza del caporale, non diversa da quella del guardia, ma egli era giovane, felice di vivere, ormai è per sempre cittadino, dall'alto dei ponti, dove saliva con i coofani, di calcina sulla spalla, non era più la luna, ma la cupola di Santa Maria del Fiore, che gli sembrava di toccare, a sera, si appartava con Betto al tavolo dell'osteria, dove avrebbero cenato, o seduti cavalcioni, l'uno di fronte all'altro, sulla spalletta dell'arno, su una panchina di giardino, se ristori, mai in casa, sarebbero corsi i denari per la candela, e Betto gli insegnava a leggere, e a scrivere, presto Metello, seppe fare la sua firma, combinare una lettera da spedire in Belgio, e ripetere a memoria, lunghi brani del libro, di Francesco Pezzi, sui fatti del 1878, che gli era servito da sillabario, e a notte, se Betto non era rientrato, quando la chiesa, davanti casa sua, batteva le due, Metello, si vestiva, andava al giardino se ristori, raccoglieva il suo amico folgorato dall'alcol, e spesso contuso, per via delle convulsioni, in cui si era dibattuto, ora era lui, che lo portava in spalla, fino a casa, ma una notte, sul finire del settembre 1890, Metello, non lo trovò a Bocconi, tra l'aiuole del giardino, né altrove, nemmeno le guardie lo avevano preso, nessuno, Betto, scomparve così, e per sempre.